In una dura nota di Fium CGL e Fium CISL viene fatto il punto della situazione per quanto riguarda la vertenza della BOL. Ad una settimana dal vertice presso il Ministero del Sviluppo Economico, i rappresentanti della BOL Beverage Packaging Italia non hanno ancora inviato a comunicazione circa le loro intenzioni. Dopo aver bloccato già dallo scorso 20 novembre la produzione, è confermata l'intenzione di chiudere lo stabilimento il prossimo 31 dicembre per motivi di efficienza, qualità e sicurezza, lasciando sulla strada circa 70 lavoratori. Nei fatti l'azienda ad oggi ha offerto esclusivamente la disponibilità a valutare eventuali richieste di trasferimento delle maestranze verso altri stabilimenti sparsi in Italia ed estero, scrivono nella nota le segreterie di Fium CGL e Fium CISL. Ma nella sostanza la BOL Corporation non sta discutendo della cassa integrazione perché non vuole chiederla, non vuole lasciare a disposizione lo stabile e non ha fatto alcuna offerta economica ai lavoratori e questo, aggiungono i sindacati, è di una gravità inaudita, soprattutto alla luce della disponibilità da parte di tutte le istituzioni, dal Ministero fino al Comune di San Martino sulla Maruccina, passando per la Regione. Il Ministero, infatti, ha già comunicato la disponibilità di fondi per la cassa integrazione, così come la Regione Abruzzo, è pronta a mettere sul piatto un pieno di corsi di formazione, così come previsto nella circolare ministeriale dello scorso 4 ottobre. Perfino il Comune di San Martino sulla Maruccina ha fatto la sua parte, garantendo all'azienda una riduzione di tari, imu e tasi. Intanto prosegue la protesta dei lavoratori della BOL attraverso un servizio di volantinaggio davanti ai principali centri commerciali della Regione.